Benvenuti a 10minuticonpegli.com. In questo episodio concluderemo i cenni storici e affronteremo la questione del naufragio della nave Italia. Il 1892 è anche la volta della nave Italia che si arena. Andrea Repetto e Gaetano Lavarello di Camogli si legano definitivamente alla comunità di Tristan da Cugna. I loro cognomi sopravvivono nei discendenti. La popolazione cresce nel 1899 a 74 persone e 18 famiglie. L'abilità come carpentiere di Gaetano Lavarello permette lo sfruttamento delle risorse di Inaccessible Island. La caccia e la raccolta di uova sull'isola suppliscono le carenze agricole di Tristan da Cugna. Una nuova carestia flagella l'isola nel 1906. Nel 1908 il ritorno dei fratelli Glass, sposati con due sorelle irlandesi, porta alla diffusione del cattolicesimo. Durante la guerra Boera ed il primo conflitto mondiale vengono sospesi i viaggi annuali delle nave di supporto. Per dieci anni l'isola non riceve posta sino all'arrivo nel luglio del 1919 della Jarmut che annuncia l'armistizio. Nel 1920 iniziano i lavori di costruzione della chiesa di St. Mary e l'ingrandimento della scuola. È norvegese la prima spedizione scientifica guidata dal dottor Erling Christofferson che completa una mappatura dettagliata dell'isola. Nel 1942, durante la seconda guerra mondiale, viene installata una base segreta, Job 9 o HMS Atlantic Isle, per monitorare gli U-boats tedeschi e le condizioni meteorologiche. Viene addestrato il corpo dei Tristan Defense Volunteers, composto da 16 uomini anche se l'isola ricopre solo compiti di comunicazione. Vengono costruiti nuovi edifici per la stazione ed anche una scuola, un ospedale ed un negozio. Viene introdotto l'uso dello stipendio spendibile nello spaccio. Il dottor Huley ricostituisce il consiglio dell'isola, Island Council. La guerra porta anche innovazioni amministrative. A differenza dei sacerdoti, che ricoprono solo un ruolo di guida per la comunità, gli amministratori sono anche rappresentanti ufficiali del governo britannico. Il stand a Cugna rientra tra i British Overseas Territories. Vengono introdotte l'acqua corrente e la fogna. Dopo la guerra le nuove strutture vengono mantenute. Il governo britannico insedia sull'isola un amministratore, un operatore radio, un dottore ed un insegnante. Si incentiva lo sviluppo della pesca commerciale di gamberi ed aragoste. Il lavoro sull'isola si divide tra l'industria del pescato, i servizi governativi e la collaborazione domestica nelle case dei residenti per lavoro sull'isola. Si registra un boom economico legato alla pesca. Il governo sudafricano si accorda per installare una stazione meteorologica permanente su Guga Island. L'accordo prevede una visita annuale di una nave sudafricana. Nel 1957 il principe Filippo, duca di Edimburgo, visita l'isola. Nel settembre del 1961 l'isola viene inaspettatamente colpita da un'attività vulcanica mai registrata prima. Si registrano anche terremoti e danni. Dopo gli eventi vulcanici del 10 ottobre viene decisa l'evacuazione dell'isola. Il governo britannico ipotizza l'abbandono permanente dell'insediamento a causa dei danni subiti dalle strutture, dalle attività produttive e dall'isola stessa. Parte della comunità viene ospitata in Inghilterra. Nonostante l'integrazione alcuni problemi di natura medica affliggono gli sfollati. Nonostante l'invito del British Colonial Office a non tornare sull'isola, un voto 148 a 5 sancisce la volontà della comunità di reinsediarsi a Tristan da Cugna. Il 9 aprile arriva una seconda avanguardia di 51 persone e il 10 novembre 1963 la nave danese Bornholm sbarca i restanti 198 Highlanders provenienti da Southampton. Analizziamo ora il mondo nel 1892 anno del naufragio del brigantino Apalo Italia. Nel 1892 come dimostra questa cartina l'impero britannico si è espanso in tutti i continenti del mondo. Nel 1892 il continente africano è per lo più controllato da britannici, italiani, francesi, portoghesi, tedeschi, spagnoli e turchi. La colonia del Capo e l'arcipelago di Sant'Elena sono i territori britannici più vicini all'arcipelago di Tristan da Cugna. L'Italia risulta essere un brigantino Apalo, cioè un veliero con buon presso e tre alberi verticali, quelli di Trinchetto e Maestra a vele quadre, quello di Mezzana a vele auriche. L'Italia risulta avere 1600 tonnellate di stazza ed essere stato costruito a Varazze nel 1882. Le sue rotte preferenziali risultano tra gli Stati Uniti e Regno Unito fino alle Indie e alla Cina. La presente slide mostra alcuni termini marinareschi riferiti all'alberatura e alle vele di una nave come poteva essere il brigantino Apalo Italia. Questa cartina mondiale mostra le correnti oceaniche, correnti calde e correnti fredde che avrebbe incontrato durante la navigazione la nave Italia. Questa slide mostra la direzione dei venti di superficie attraverso delle frecce rosse nella stagione invernale e nella stagione estiva. Il viaggio si distingue in due parti. Inizia a Genova con un carico non ben definito e impiegano 11 giorni per arrivare a Gibilterra. Altri 10 giorni di navigazione alla cappa per venti contrari e ulteriori 14 giorni servono per arrivare a Swansea dove vengono sbarcate le merci e viene imbarcato il carbon fossile. Successivamente si incontrano gli alisei di nord-est, venti variabili dell'equatore e alisei di sud-est. La nave procede con una velocità di 5-6 miglia nautiche orarie. Un marinaio cade in mare e viene recuperato. Dopo 55 giorni di navigazione viene raggiunto capo di buona speranza. Altri 51 giorni servono per raggiungere l'isola di Penang dove viene sbarcato il carbon fossile. Dopo 15 giorni la nave parte per Rangoon in Birmania. Si incontrano monsoni favorevoli da nord-est e vengono impiegati 8 giorni per arrivare a Rangoon. Viene scaricata la zavorra caricata precedentemente nell'isola di Penang e caricato un carico di TEC. La nave impiega 20 giorni per raggiungere capo di buona speranza e proseguire successivamente verso l'isola di Sant'Elena. In 90 giorni raggiunge Londra impiegando 4 mesi e 17 giorni. Viene scaricato il TEC e viene caricato nuovamente del carbone, destinazione questa volta città del capo. A Greenock si fa tappa per effettuare il cambio del primo ufficiale. Il 3 agosto 1892 la nave parte per il Sudafrica. Per alcuni giorni di navigazione incontra gli alisei di sud-est e la velocità è di 6-7 milia nautiche orarie. Il 28 settembre da un boccaporto di prora esce fumo verdastro e gas. Il nostro uomo teme un incendio. Purtroppo è impossibile localizzare l'origine dell'incendio e viene dato ordine di gettare a mare il carico. L'eccessivo calore non permette di portare a termine le operazioni. Il primo ufficiale deve accertare l'effettiva esistenza di un incendio per mezzo di un termometro. Viene deciso di sigillare il boccaporto per soffocare l'incendio. Vengono quindi approntate le imbarcazioni per un possibile abbandono nave. In vista di un possibile naufragio vengono preparate le scorte viveri. La nave procede ad una velocità di 5-6 milia nautiche orarie verso Tristan da Cugna. Il 2 ottobre si incontra brutto tempo, cielo nuvolo e la velocità aumenta a 8 milia nautiche orarie. Si imbrogliano le vele alle ore 18. Il capitano getta in mare due bottiglie con i messaggi dei morituri. Si trovano a 160 milia nautiche da Tristan da Cugna. Nel prossimo episodio scopriremo gli ultimi giorni di navigazione della nave Italia e lo sbarco sull'isola dei naufraghi. Arrivederci al prossimo episodio da Pegli.com